Il Dipartimento di Medicina Veterinari e Produzioni Animali è da sempre vicino al mondo della sana imprenditoria campana e nazionale in senso generale, formando attraverso l'espertise di propietrocenti e supporto scientifico a brillanti idee imprenditoriali. E stamattina appunto a Innovation Village che riflette questo spirito di collaborazione, di attuazione, di collaborazione tra mondo scientifico e mondo del produttivo, portiamo i risultati di un importante progetto Smart Tech nel quale abbiamo con la collaborazione di un altro importante ente scientifico, l'Istituto IBBR del CNR, abbiamo messo a punto delle sostanze antimicrobiche naturali in grado di prevenire la crescita batteria. Queste sostanze sono funzionalizzate con dei packaging innovativi e servono per il packaging di preparazioni di carne, quali hamburger, quali carpacci, prodotti da un gruppo, che è il gruppo Visioni, molto forte in regione campania. A ciò abbiamo associato un'ulteriore picca in questo progetto che è caratterizzata la possibilità di garantire la dicciabilità, l'elemento, non so come si sa, obbligatorio per l'evoluzione alimentare grazie al sistema della blockchain.